Gio, se ci vedessimo un film? Perché no, dai? Bello sguardo, cosa stai facendo lassù? Sto supponendo, suppongo, che non stia arrivando nessuno. Lo supponi. Suppongo, che ero David Bowman. Suppongo, che sei un coglione. Lo supponi. Supponi. Suppongo. D'ora in poi sarai chiamato con il nome di Darth. Bene. Sta lontano da lei. Puttana. E' Witwiki. Allora, domanda. Sì. Ti piace la pizza alla penicillina? Mamma diceva sempre Se mangi una tonnellata con i cioccolatini Puoi scoppiare! Un film di Michael Bay. Sono stato un figlio per te. Sì, un padre per me ora. Ho già avuto un figlio. Si chiamava Richard Bateson. Vai con Dio, Harry. Mangi di Harry! Oh, già. Io non sono tuo padre, Sam. Io sono tuo padre. Mi faccio vedere una volta all'anno. Sposato? Hai una ragazza? Un cane. La donna cane. I cani fanno compagnia? Sì. Finché non l'ho mollata. Ma che cazzo fai, porco... I russi hanno una cosa in comune. Non gli piace parlare. Saremo costretti a usare la lingua internazionale. Gujira! Vuol dire... Gui, gui. Guarda ora. Penny! Il tuo chakra del cuore, al momento dell'abbraccio, afferrerò quella troietta di Marla Singer e urlerò. Marla, sei una puttana. Mio padre non era un pirata. Tuo padre era un maiale. Lucia è tuo, porco di... Elisabeth, sei presentabile? Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. E così sia. Grazie padre, grazie a buon rendere. Che Dio la benedica! Evviva la figa! A proposito, sono Ron. Ron Potter. Io sono Harry. Harry Weasley. Bond. James Bond. C'era di presentarti Toro Monroe, alias Tempesta. Lui è Scott. Albus, Percival, Wulfric, Brian, Bilio, Summers. Ciao. Alias Ciclope. E a te come ti chiamano? Coglione. Ah, un altro Potter. So esattamente cosa fare con te. Tasso Rosso. Molto bene, molto bene, molto bene. Come stai, Tom? Sto bene. Lei è il dottore, vero? No. Sono il dottore. E non vuoi parfum, parfum, baguette, e scargò, putain, boiafaus. La... L'avete detta male? Calypso? Ah, è l'idra. Buon salve a tutti, qui siamo stati Dark Hunter 514. E vi abbiamo presentato la nostra prima YouTube Pulp in assoluto. Sarà stata un po' scabrosa per cui, vabbè, ma è la nostra prima esperienza, quindi non è che potevamo... scandalizzate. No, tranquilli, non potevamo scendere col sacro crado sulla terra. Montatore è lui, eh, cioè, tengo a sottolineare che il lavoro è grande. Vabbè, però le idee sono... Entrame. Esattamente. Vi ringraziamo per aver visto il nostro video e vi invitiamo a iscrivervi ai nostri rispettivi canali che troverete nelle informazioni qui sotto. E pensate che noi siamo anche persi uno genere. Ecco, grazie ragazzi. Grazie a tutti. Alla prossima.